ciao ragazzi andiamo ad allenare adesso il collo piede è importantissimo per riuscire a calciare la palla soprattutto colpirla bene il collo piede è la parte del piede in cui stanno i lacci dove stanno i lacci delle scarpe quindi è di facile riconoscibilità e potete allenarvi in questo modo guardate lo andate ad allenare prima piano questa è la parte del piede con cui va colpito il pallone ricordatevi sempre anche quando colpite la palla piano caviglia distesa e bloccata per andare a calciare bene soprattutto dare una bella stoccata alla palla per per farla muovere adesso lo vediamo un pochino più in velocità guardate vedete come riusciamo ad alzare il ritmo allenatevi sempre ragazzi soprattutto in questo modo potete allenare la frequenza degli appoggi divertitevi ragazzi però allenatevi perché migliorare costantemente è sempre importante ciao a tutti